Benvenuti a Cagliari News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Cagliari. Il Cagliari, con Claudio Ranieri, si avvicina alla partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. La squadra isolana giocherà domani alle 12.30 contro la squadra friulana di Andrea Sottil. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, il signor Ranieri sta facendo le considerazioni necessarie riguardo alla tattica difensiva anti-udinese. Il tecnico isolano può contare su tutti i difensori della Rosa, tranne Elio Capradosi. Potremmo optare per una coppia difensiva inedita formata dai debuttanti Mataus Vietesca e Panteli Sazzidiacos, ma anche con l'aggiunta di Alberto Dossena che formerebbe un trio difensivo di qualità, muscoli e centrali. Questa formazione difensiva sarebbe una novità per il Cagliari, Maranieri è fiducioso che i giocatori siano pronti ad affrontare questa sfida. L'assenza di Capradosi è una perdita significativa, ma la squadra è determinata a superare questa avversità e cercare la sua prima vittoria nel campionato. E voi tifosi rosso-blu, pensate che il Cagliari vincerà contro l'Udinese? Lasciate la vostra opinione nei commenti perché è molto importante per il Cagliari. Cagliari